E' stata rintracciata alle 6 di questa mattina Marta Fico, 16 anni di Pesero, in un appartamento di un amico dove si trovava in compagnia di un maggiorenne extracomunitario. Sulle sue tracce da ieri anche i carabinieri, dopo che i genitori siano rivolte alle forze dell'ordine per la denuncia della scomparsa. Genitori che avevano lanciato in serata anche un appello sui social per chiedere notizie della figlia. Si presume sia scappata con un ragazzo extracomunitario maggiorenne. La giornata di Marta era iniziata normalmente come tante mattine. Il padre l'ha accompagnata a scuola, il liceo Mamiani di Pesero, ma poi all'uscita la mala sorpresa. Marta in classe non è mai arrivata. Infatti dal registro mancava la sua presenza. Ore d'angoscia e la decisione di affidare al web l'appello per rintracciarla e poi andare in questura. Il tantan mediatico è stato istantaneo ed infatti un assistente sociale che aveva letto l'appello dei genitori, diventato ormai virale, l'ha riconosciuta in tarda serata in compagnia di amici ed ha avvertito le forze dell'ordine che sono riusciti a localizzarla questa mattina presto. È stato un gesto volontario quindi quello di allontanarsi dal contesto familiare, forse per una relazione osteggiata, forse per una crisi passeggera a cui spesso gli adolescenti vanno incontro. Solo lei sa le ragioni del suo gesto. Ciò che conta è che la sedicenne è stata trovata in buone condizioni psicofisiche, ora però dovrà confrontarsi con i genitori che hanno vissuto ore di profonda angoscia per il suo gesto.